Scusi, l'articolo 10 del 64 del regolamento della Camera, l'articolo 10 riguarda la votazione di oggi, in quanto una cittadina italiana non è stata in grado di entrare, è stata Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, ringrazio i gestori e ringrazio i professori. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.